L'8 dicembre del 1964, sempre primo turno della Coppa dei Campioni, Rapid Vienna contro Rangers. All'andata il Rangers a Glasgow il 18 novembre del 1964 ha vinto 1-0 contro il Rapid con gol di Wilson al trentesimo. La squadra in maglia a strisce verticali che va adesso vicino al gol è il Rapid, maglia scura il Rangers che al diciannovesimo con Forrest va in gol, chiudendo di fatto la partita e la qualificazione. 1-0 all'andata, 1-0 al ritorno e non è finita perché nel secondo tempo arriverà il secondo gol di Wilson al cinquantacinquesimo. Il Rapid cercherà con questo tiro di raddrizzare la partita senza riuscirvi in contropiede, dicevo, i Rangers vanno a segnare il 2-0. Sul fondo mette in mezzo e Wilson fa 2-0. Passa dunque il Rangers ai quarti di finale.